L'idea del giornalista Luciano Mirone di proporre la città di Mistretta come patrimonio UNESCO è stata accolta con entusiasmo dalla comunità amastratina, sempre orgogliosa della storia e della bellezza della propria città. Città che negli ultimi decenni causa una serie di problematiche, ha conosciuto uno spopolamento inarrestabile e vive un periodo di crisi difficile da superare. È stata promossa anche una petizione online per il riconoscimento del centro nebroideo come bene UNESCO da parte della Prologo e le adesioni sono state più che massicce. Questa proposta, pur nelle sue difficoltà, viene vista come una grande opportunità per il rilancio della vecchia Mastra e anche il sindaco Sanzarello ci crede, appellandosi all'unità della popolazione. Questa grande sfida ci costringe a metterci insieme, a pensare, a sforzarci, a capire quali sono le realtà che hanno avuto questo riconoscimento di sito UNESCO e che cosa ci vuole, che cosa possiamo fare per ambire a questo riconoscimento. Già il solo fatto di partecipare, il solo fatto di approfondire, di studiare è già un grande risultato e su questo noi ci stiamo scommettendo. Abbiamo già avuto, abbiamo fatto dei coinvolgimenti, la raccolta firme è una cosa importante, abbiamo molte adesioni anche autorevoli per cui ce la metteremo tutta anche in questa scommessa.